In auto con Guido e il suo bambino Ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo, è obbligatorio allacciare le cinture. Anche il tuo bambino deve viaggiare in sicurezza. I dispositivi di ritenuta sono obbligatori fino a 36 kg di peso. Fino a 9 kg il bambino deve essere trasportato in senso contrario alla marcia. Se posizioni il seggiolino sul sedile anteriore, ricordati di disattivare l'airbag. Anche per andare molto vicino, allacciare le cinture al tuo bambino.